Dacchio! Come una città che brucia ancora Frattaiu! Frattaiu! Il giro del mondo con l'asse mediano Bebeba da boh! Bebeba da boh! Bravi ragazzi! Grazie, grazie a tutti! Ce ne andiamo! Grazie, è stato un piacere! Alla prossima! Ciao, ciao, ciao! Il giro del mondo con l'asse mediano Frattaiu! Frattaiu! Come una città che brucia ancora Frattaiu! Frattaiu! Il giro del mondo con l'asse mediano Frattaiu! Frattaiu! E' come una città che brucia ancora Frattaiu! Frattaiu! A Basci Piazza Nova, Aretha Sound du Rock Fin da questa città Ma cosa è quello di Frattaiu? Frattaiu! E' certo, si! Davvero? Sì! Ti spero che ci cambiamo i numeri! Non è un problema, assolutamente! No! Ma ti sei quello di Frattaiu? Eh sì! Sicuramente! Prego! Ma tocca! Nessun problema! Per i fan questo ed altro! Grazie, grazie! Non ci posso credere! Tutto questo non è assolutamente reale! Allora, vediamo un po' Il calcestrusso! La matta! Come si legge? Segare il legno! Fare la segra! Segare! Muni! Intonaci! Come rinforzare! Ma... Ma tu! Sei il ragazzo di Frattaiu! Sì! E che stai facendo qui? Ma sto curando alcuni progetti importanti! Comunque il video fa proprio cagare! Fa proprio schifo! Ti vesti una merda! Trovate un lavoro! Impara a campare! O qualcosa! Ma non ci battono! Non ci fermano! Loro sono zero ma... Noi diamo il massimo! Uè Fra! Ma non sei che lì Frattaiu! Si Fra! Ma che cazze romperà? Ma che era? Ma che? Il mio stile non si imita! Ora sono zero ma... Noi diamo il massimo! E ora cosa faccia? Vincenzo! Avrà il fuoriscatto! Sarà quest'estate! La grande caccia!